Integrazione, integrazione. Gile, quale integratore devo prendere? Dipende come sei fatto. Ok, dipende quale problemi hai, dipende quanto... Magari stai già prendendo uno dei miei integratori e adesso devi andare avanti e cambiare. Allora, vi spiego. Il mio integratore... Io ho diversi integratori. Cioè, integratori che sono potenziatori del metabolismo. Perché? Perché integrano quello che il tuo fisico non sta più facendo magari in modo bilanciato o al suo status ottimale come la glicemia, magari come la leptina e la serotonina che regolano l'appetito. Maybe, scusami, io stavo pensando in inglese. Forse hai problemi dei peristalsi per andare al meglio al bagno. Cioè, tutte queste cose, già questa fisica, man mano che cominciamo a invecchiare, si rallenta e questi miei superfoods sono naturali, vengono da natura per aiutarci a potenziare questi sistemi. Allora, innanzitutto, fatevi un'autovalutazione. Se sei a forma di mela, hai tantissimo grasso o gonfiore sulla pancia, ti posso, come potenzione del metabolismo, consigliare il caffè verde e la grasina in Cambogia. Agiscono proprio sul grasso viscerale. Anche bacche di goji, tantissimo, perché agisce sul cortisolo in eccesso, aiuta a gonfiare di gran lungo la pancia. Ma anche Easy Drain, perché Easy Drain è un drenante e le donne hanno tendenza di accumulare o ritenere tanti liquidi sulla zona abdominale. Ok, invece se tu sei a forma di pera, ok, una forma un po' più come anfora, diciamo, la forscolina, ok, la forscolina perché riduce l'eccesso di estrogeno, perché il grasso sulle cosce è un problema, è spesso e volentieri un eccesso di estrogeno. e abbiamo visto veramente cose incredibili con forscolina. Persone che, sempre che hanno fatto liposuzione, invece niente, siamo riusciti a aiutare il quadro ormonale a bilanciare. Parlando di quadro ormonale, bilanciato un altro prodotto eccellente, la Noni. Io non ho il succo di Noni, ma lì ho filizzato la Noni così altamente concentrato. insomma, la capsule delle mie Noni equivale quasi un quarto di litro di succo di Noni, senza ovviamente quel gusto raccapricciante che è il succo di Noni. L'altra cosa di Noni è un antidolorifico naturale, allora bilancia tutto il quadro ormonale, migliora il ritmo circadiano, così dormi quando devi dormire, vai in bagno quando devi andare in bagno, hai fame quando devi avere fame, hai energia quando ti servono le energie e quant'altro. Ed è singolare, perché è un adatto genico, aiuta ogni singolo corpo a adattarsi al meglio al suo ambiente circostante. E poi abbiamo anche i colleghi anti-invecchiamento. Skin Renu, ragazzi, è una bomba per i capelli, per le unghie, cioè i capelli che mi stanno crescendo a vista d'occhio, a vista d'occhio perché la collagene, l'acido ialuronico, aiuta non solo la pelle, ma le ossa, il tessuto connettivo, i capelli, cioè ovunque che tu hai collagene nel corpo, anche nelle vene, parlando delle vene, c'è l'Egre Renu, l'Egre Renu che potenzia il ritorno venoso da morire, ti fa drenare da morire, perché aiuta proprio a tirare via i liquidi in eccesso da una parte, ma dall'altra parte potenziare proprio le vene, le pareti delle vene, portando collagene alle pareti delle vene, così diventano più forti, ti aiuta contro magari le gambe gonfie o le mesi caldi. Però fate questo, curatevi. E l'altra cosa, antiossidanti, ragazzi, io non capisco perché le persone non prendono antiossidanti a go go, io ho Maki, che è la più forte antiossidante in questo momento, conosciuto sulla pianeta, o Mangostano, che è un altro antiossidante meraviglioso, Caffè Verde è un antiossidante, e gli antiossidanti rallentano il processo di invecchiamento cellulare, punto, ok? Rallenta il digeneramento, uno dice, Gilles, ma stai meglio oggi di dieci anni fa? Sì, perché ci lotto ogni santo giorno. Allora, quello che voglio dire, ragazzi, piano piano, cominciate a integrare la vostra vitalità, cominciate a mangiare in modo più sano, cominciate a trattarvi con rispetto, perché, oh, questo è la macchina dell'anima, trattelo bene, la vita è una figata, ok? Così, un bacio a tutti quanti, questo vlog è finito per oggi, vi vediamo prossima settimana, mi raccomando, condividete questo video se vi è piaciuto, create dei playlist con i miei video, così, quando vuoi, puoi trovare l'allenamento giusto per te, quando ti va, e ti mando un bacio dalla G, ci vediamo, ciao!